Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale, io sono Giannina e oggi vi parlerò di come ingrassare. Tanti adolescenti e non solo hanno un grossissimo problema, cioè uno, ce n'hanno più di uno, però due principali sono l'obesità e il sottopeso, che significa ingrassare, significa che non devi mangiare cibo spazzatura per ingrassare perché il tuo corpo ne soffrirà, non avrai un aspetto bello, anche se il tuo metabolismo è alle stelle e riesci a bruciare pure i sassi, mangiando male, mangiando fritti, mangiando fast food e tutte quelle robe, non ti aiuterà né a ingrassare né a avere una vita sana. Per ingrassare in modo corretto devi mangiare sano, significa mangiare una dieta equilibrata, come ad esempio quella mediterranea, e aumentare le quantità. Per ingrassare basterebbero 20-30 grammi di nocciole, quelle di bosco, quelle rotonde, le mandorle, i pistacchi, ci sono tantissime frutte secche che aiutano ad aumentare di peso, perché le cose sane, se mangiate le robe, aumentano di peso, in questo caso sono buone, sono importanti, come ad esempio anche l'olio di oliva, il pesce, il salmone, mangiatene tanto, mangiate tanta roba sana in quantità maggiore. Naturalmente dovreste essere sempre seguito da uno specialista, perché tante cose le persone non le conoscono, non sanno che alcune cose possono far male. Capita che tanta gente pensa che mangiare il fritto non fa male, oppure se metti l'olio dentro il sugo non è uguale come friggerlo, è uguale. Quindi anche se dovreste aumentare di peso, dovreste mangiare sano, significa che dovreste evitare i fritti, dovreste evitare lo zucchero bianco, l'alcol, invece le cose che dovreste fare, bere due litri d'acqua al giorno, mangiare cibi integrali, aumentare il consumo di frutta secca e di oli, parliamo dell'olio d'oliva, anche l'omega 3 che troviamo nei pesci, aumentare la fonte di grassi e di carboidrati non raffinati, parliamo di cose integrali, aiutiamo il nostro corpo nel processo anche della rigenerazione, della ricostruzione delle proprie cellule a non rigenerarsi in modo sbagliato e a scatenare alcune malattie che noi nella nostra mappa genetica ci nasciamo. Quindi aumentare di peso non significa mangiare patatine fritte tutti i giorni, significa mangiare in modo sano aumentando calorie, ad esempio vi do un esempio di una giornata tipo per chi vuole aumentare di peso, colazione, bicchiere di latte, anche vegetale, parzialmente scremato, non importa che tipo di latte vi piaccia, 50-60 grammi di cereali, preferibilmente integrali, aggiungiamo 20 grammi di mandorle e stiamo a posto. A metà mattinata mangiamo la frutta, 200-300 grammi di melone, non so, quello che vi piaccia a questo periodo, pranzo, 50-70 grammi di pasta, basta perché diciamo che le quantità sono variabili in base giustamente all'età, al peso, al sesso, io dico delle quantità indicative per un adolescente perché è lì che mi è stato chiesto di più, parliamo di una ragazza sottopeso di 17-18 anni, 16-17-18 anni, quindi 70, anche 100 grammi di pasta, tante verdure, oppure i cereali, oppure i legumi come i ceci, lenticchie, insieme alle verdure, anche se stiamo ingrassando e vogliamo ingrassare, le verdure non devono mai mangiare, mai, se voi fate caso, le persone sottopeso hanno sempre la pelle secca, perché mangiano schifezze, non mangiano verdure e non bevono acqua, quindi bevete acqua, mangiate verdure, aumentate il consumo di frutta secca e mangiate tutta roba, non raffinate, pomeriggio, uno yogurt, di nuovo frutta secca, 20-30 grammi, fa sì che aumenta il vostro peso e ricostruisce il vostro organismo in modo più armonioso, un'altra cosa molto importante, chi ha o vuole aumentare di peso, non deve rinunciare all'attività fisica, perché l'attività fisica, porta dei benefici a tutto il nostro organismo indipendentemente dal peso, voi fate caso ai bambini, i bambini piccoli, che fanno sport, sono vivaci, hanno la pelle bellissima, perché? perché mangiano bene, fanno attività fisica, danno tutti quei ingredienti giusti affinché noi abbiamo una vita sana e forte, e un'altra cosa, le persone sottopese, come anche quelle sovrappeso, sono sempre stanche, la stanchezza è sempre, sempre data dall'alimentazione, naturalmente, se lavori come un somaro, 20 ore al giorno, è data pure dalla stanchezza fisica, ma la stanchezza quella che non sai perché, è data semplicemente dall'alimentazione, quindi eliminate i fritti, i fritti non portano a nessun benesse, zucchero bianco non porta a nessun benesse, né che dimagrite né che volete ingrassare, chi vuole essere seguito da me, in dieta Giannina, trovate tutte le informazioni in infobox, seguitemi su Instagram, parmigiano insieme, andate a vedere anche il blog dove posto tutte le ricette, e ci vediamo al prossimo video, like!